buongiorno ragazzi ci siamo ci siamo vi ricordo di iscrivervi al canale qualora vi facesse piacere di attivare la campanellina qui è tutto gratis metto anche il code per far parte della chat whatsapp degli esonerati che per ora per ora è aperta a tutti perché abbiamo in mente una cosa io e seven up quindi chi volesse partecipare chi volesse far parte della chat whatsapp degli esonerati scansionasse il code allora incominciamo a dire che dopo diciamo quello è stato fatto con la juventus che che poi alla fine è finito tutto a tarra luce e vino spero che al milan per quello che sta avvenendo fuori poi parliamo anche della cosa di piffe per quello che sta avvenendo fuori spero in una sanzione pesante io sogno anche la serie b perché non posso sognare in milan in serie b dopo farina cardinale farina e a me piacerebbe andassero in serie b se lo meriterebbero se è vero quello che stanno dicendo per quello che poi riguarda il dossier che hanno trovato hanno trovato un dossier dove loro loro avevano presentato a questi arabi che poi basta siano arabi sono piff ma la stessa gazzetta dello sport prima era già fatta piff ha preso il milan ora invece c'era un dossier preparato dal milan da presentare a questi arabi per far sì che loro c'era un piano così lo definiscano al milan c'era un piano per farli partecipare con un 41 per cento per la costruzione dello stadio quindi hanno sbandierato per due mesi piff milan era fatta stamattina la gazzetta dello sport ha avuto il coraggio di dire no guarda avevamo scherzato c'era un piano questo dossier esaminato da parte del milan per farli entrare con il 41 per cento questi arabi che non si sa chi siano perché eh loro diano piff ma sul dossier non risulta nessun piff paf o puff per farli entrare con il 41 per cento tra l'altro io ce li vedo molto gli arabi che entrano in minoranza e mettono i soldi e che stanno zitti certo proprio loro sono perfetti quindi questo per farvi capire il grandissimo la grandissima confusione che c'è nella comunicazione anche perché fino a tre mesi fa parlavano di consorzio arabo per l'inter articoli di settembre fine settembre repubblica solo le 24 ore parlavano di consorzio arabo poi per due mesi tutti i siti ora piff aveva preso il milan ora invece hanno detto no stavamo giocando esaminando il dossier hanno detto no c'era un piano per farli entrare presentato dal milan al 41 per cento parlano di un piano quindi non c'era nulla di definito non c'era nessuna due diligence non c'era nessun toe non c'era nulla di tutto quello che hanno sbandierato e i dossieri esaminati dalla guardia di finanza lo testimoniano potete leggerle ovunque ormai queste notizie quindi io dopo quello che è successo la juventus che è finito tutta taralluce e vino spero in una in una punizione esemplare per il milan perché parliamoci chiaro da yogurt lì agli altri due cioè è sempre stata poco chiara questa situazione no la stanno chiarendo eh la sta chiarendo questa situazione chi di dovere e tra l'altro io voglio dire che non lo dico da tifoso dell'inter io lo dico da amante del calcio dopo le schifezze che ha combinato la juventus vederla dopo dopo il risultato di ieri sera del napoli vederla partecipare al mondiale per club è una vergogna far partecipare la juventus al mondiale per club è una vergogna questo sistema va rifondato dalle fondamenta va rifatto tutto va buttato giù e va rifatto è una vergogna far partecipare la juventus al mondiale per club anche perché questi non si erano qualifiati nemmeno in champions league tra un po' l'anno scorso questi hanno fatto questi sono due anni che fanno ridere cosa li porti a fare al mondiale per club parlando dal lato del campo parlando dal lato legale e penale questi solo quest'anno hanno due squalificati uno per doping e uno per calcio scommessa e te solo quest'anno senza notare quello hanno fatto l'anno scorso e te li fai partecipare al mondiale per club una squadra e non riesce andare in champions league ci andrà quest'anno molto probabilmente ma dove li porti questi qui è una vergogna per il calcio italiano ma quell'altro di milan via mandiamoli via in un altro campionato loro in milan sono teso sono teso allora io ti dico una cosa sto seguendo l'atletico madrid in maniera importante in maniera diciamo costante da circa due mesi io ti dico una cosa io ti dico una cosa loro non potranno fare una partita di parcheggia di parcheggiamento pullman quindi loro dovranno essere propositivi stai calmo ascoltami calmati calmati quindi loro dovranno soprattutto in un pubblico nel loro stadio in quel diciamo in quell'inferno perché per noi sarà un inferno io ti dico che però noi abbiamo tantissime possibilità perché abbiamo molte più armi rispetto anche all'anno scorso durante questa partita segui bene a quello che ti dico perché molto probabilmente accadrà durante questa partita più passa il tempo e più li costringeremo ad essere propositivi mi segui? ma l'atletico madrid che è comunque una grandissima squadra che ha una grande rosa che ha un undici titolare fortissimo ci mancherebbe se quello non ci piove non riesce ad attaccare senza lasciare spazi perché loro attaccano in maniera squilibrata quando loro attaccano lasciano le voragini dietro ed è lì che li possiamo colpire perché noi siamo forti a proporre calcio ma siamo devastanti anche nelle ripartenze ed è lì che Turam, Danfris, soprattutto Cialanogo che dovrà uscire dalla gabbia gli verrà fatta stasera ed è lì che dovranno essere bravi questi tre giocatori perché l'atletico madrid è una squadra e quando attacca non attacca in maniera capito in maniera compatta attacca ma ti lascia tanti spazi dietro motivo per cui da quando sta provando questo gioco propositivo ha preso una una marea di gol ecco a cosa dobbiamo puntare noi a far passare il tempo giocandoci la nostra partita non certo parcheggiando il pullman ma noi non lo parcheggeremo il pullman non sanno attaccare coprendo gli spazi come te lo devo dire ed è lì che dobbiamo bastonarli capito perché passare il turno con l'atletico madrid sembra una roba spettacolare per me passare il turno stasera è più vale la finale di Champions League dell'anno scorso senti osa ti dico perché l'atletico madrid è una grandissima squadra non è una squadra perfetta ma difficilmente ci sono squadre perfette nel calcio qualsiasi squadra ha il suo punto debole il punto debole dell'atletico madrid è questo che quando attacca non riesce ad attaccare coprendo gli spazi ed è lì poi è una squadra molto non morale ma ogni squadra di calcio rispetta a livello caratteriale il suo allenatore è una squadra l'atletico e se gli salta il piano partita se gli salta la strategia si nervosiscono perdono la testa quindi abbiamo tante armi per compiere un'impresa perché secondo me passare il turno stasera è un'impresa che andrebbe non sottolineata di più perché questa è una squadraccia da incontrare e lo sappiamo tutti quindi io sono fiducioso rispetto all'anno scorso abbiamo molte più variabili offensive siamo forti devastanti di partenza possiamo proporre calcio sappiamo soffrire ci sappiamo difendere cioè sappiamo fare molte più cose dell'anno scorso siamo riusciuti tantissimo a livello tattico mentre simeone ha campato di rendita a livello tattico e solo ora sta provando a rimodernarsi in l'allenatore questi ragazzi sono migliorati tantissimo a livello tattico per questo io ho tante speranze per stasera ci becchiamo dopo la partita ciao inter la partita ciao inter ciao 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 ciao